Possiamo andare, grazie. Bene. Mister R, quanto conta l'aspetto mentale di questa gara? Direi che tutto, tutto perché tra l'altro la affrontiamo anche in condizioni un po' particolari. Dal punto di vista fisico abbiamo qualche acciacco che è maturato in settimana, però indipendentemente da chi possa scendere in campo mi aspetto veramente la partita che sappiamo tutti noi va a ricoprire una importanza vitale per ciò che concerne non solo il presente ma anche il futuro. Quindi mi aspetto tanto da chi ci sarà e non importa come saremo in un modo o nell'altro è importante che si raggiunga l'obiettivo in tutti i modi. Si affiderà più all'esperienza o più alla gioventù di quelli che può schierare? No, affiderò a coloro che mi daranno piene garanzie sotto il profilo fisico perché in questo momento ritengo sia la cosa importante. Poi, come dicevo prima, l'aspetto mentale sicuramente è determinante perché sono partite che si giocano veramente con un grado di tensione elevato quindi ritengo che la componente psicologica sia determinante. Mister, è come se fosse un derby? Giocherete a viso aperto sin da subito? L'idea di essere aggressivi sicuramente ci debba essere perché abbiamo un solo risultato però dovremo avere anche il necessario equilibrio per poi non poter concedere nulla a un avversario che è vero sì che non ha nulla da chiedere però è anche vero che abbiamo tutto da perdere noi perché ci giochiamo tutto il campionato. Mister, com'è la situazione degli infortunati? Ci spieghi un attimo quali sono quelli disponibili, quelli che certamente non ci saranno? Questa settimana è stata un po' tribolata? C'è Razzitti che ha un problema fisico che va valutato da essere in finitura Agnello stesso, c'è Garufi che comunque è convalescente ma mi sembra che abbia comunque recuperato anche se non al 100% Orchi ieri ha fatto tutto l'allenamento quindi sembra che stia bene quindi ci sono state comunque delle problematiche ma confido in coloro che scenderanno in campo perché anche un qualche acciacco la posta in palio è troppo alta. A Guadirini invece al posto? Guadirini non ha avvertito qualche acciacco ma penso sia di lieve entità quindi non penso che ci potrebbero essere situazioni particolari e poi c'è il discorso di Maeta ovviamente che sappiamo che è out quindi veniamo, siamo incerottati ma è una partita troppo importante per poter pensare a chi non ci sarà ma sarà fondamentale pensare a chi ci sarà. Come sta vivendo la squadra, lo scogliatoio, questa situazione che si è creale questa attesa, il pubblico che è partito a cacciare i biglietti che costano un euro, è la prima volta quest'anno il gruppo come sta vivendo? No, è abbastanza sereno e consapevole di quello che ci andiamo a giocare sarà per la prima volta e che vedremo lo stadio pieno quindi sicuramente dovrà essere per noi da ulteriore stimolo e farci anche capire la potenzialità di questa città. Senta mister, lei dice giustamente di tenere tutti sulla corda è giusto che sia così però onestamente si preannuncia un Murphy se noi siamo incerottati, il Murphy è proprio con diversi titolari assenti quindi da questo punto di vista si può stare un po' più tranquilla anche se non giocare questa parola ma al momento non lo voglio sentire si è vero, affrontiamo un avversario che non ha nulla da chiedere però per noi è troppo importante quindi sarà molto importante guardare quello che faremo noi non quello che farà il Murphy sappiamo che troviamo una squadra che si sarà preparando ai play out però comunque troviamo una squadra giovane quando si gioca contro i giovani i giovani hanno spensieratezza, hanno freschezza atletica hanno libertà mentale quindi ciò non toglie che noi abbiamo delle motivazioni che vanno al di là di queste prerogative che ha il Murphy quindi abbiamo tutte le condizioni affinché la si vada a spuntare per poi pensare ad altro in quest'ultima settimana ha trovato un gioco la Godini, insomma lui ha sofferto tutto l'anno però nell'ultima partita finalmente tra l'altro è un giocatore ancora capace alcune volte di fare la differenza immagino che naturalmente si affiderà anche a lui anche in quest'ultima partita è meglio tardi che mai ha vissuto un'annata un po' particolare però ultimamente è cresciuto sia in condizione fisica che in quella psicologica mi sembra che le ultime prestazioni testimoniano queste cose Quante, cioè immagino non vedo allora che si finisse questa mancanata immagino che abbiamo sofferto di quanto un po' troppo Sì, per me sono stati sei mesi intensi dove si è vissuto un po' di tutto momenti positivi, momenti meno positivi quindi è stata una buona esperienza perché poi ne vorrei parlare bene dopo la partita a obiettivo centrato quindi sicuramente sono stati sei mesi intensi e poi domani dopo la partita manifesterò le mie sensazioni, le mie emozioni Ci saranno tanti argomenti per discutere non solo con noi, immagino con tutti da domani in poi insomma da domani inizia un altro capitolo Da domani alle 18 fino alle 18 pensiamo alla partita e poi dalle 18 penseremo ad altro però siamo concentrati veramente su questo ultimo sforzo che non possiamo dare per scontato perché nel calcio non esistono partite vinte in partenza come non esistono partite perse in partenza quindi è giusto che noi facciamo una partita con grande attenzione con grande capabilità con grande equilibrio con grande equilibrio mentale soprattutto perché domani non c'è margine di errore e quindi assolutamente fino alle ore 18 voglio che con la testa siamo solo presenti sul Melfi Senta lei diceva prima insomma mi trovo d'accordo domani forse si vedrà cosa può essere Garanzaro con queste 5-6 mila persone allo stadio insomma potrebbe essere un buon auspicio per quello che potrebbe essere il futuro speriamo tutti che possa essere così Sì anche questo è un argomento che poi vedremo dopo però io l'ho visto il cerevolo pieno perché ci sono stato d'avversario quindi trasmette emozioni forti brividi sia d'avversario che a favore a favore obiettivamente non ho avuto mai il piacere di provare questo tipo di emozione quindi domani sicuramente ci sarà questa però quello che interessa a tutti noi provare emozioni positive con la gente però raggiungere il nostro obiettivo tutti insieme bene ok grazie grazie a tutti grazie a tutti